Musica Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori oggi è venerdì 25 agosto e questa è la rassegna stampa occhio ai giornali tutte le mattine guardiamo i giornali Carlino Corriere lo facciamo dopo aver visto però il calendario con il santo del giorno e poi le previsioni del tempo partiamo dal santo di oggi oggi è San Giuseppe Calasanzio è stato sacerdote il sole sorto alle 6.23 tramontare alle 19.57 il tempo avremo cielo sereno poco nuvoloso con transito di nuvole medio-alte non si escludono piovaschi i poveri indiani sui rilievi vedete l'appennino temperatura lieve aumento nei minimi e stazionari valori massimi i venti sono a regime di brezza con vento moderato nelle ore centrali il mare sarà quasi calmo o poco mosso nel primo pomeriggio per il fine settimana domani sabato 26 cielo sereno poco nuvoloso con possibilità di brevi e isolati piovaschi nel pomeriggio sempre limitatamente alle zone dell'entroterra il mare è quasi calmo domenica ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature lieve aumento il mare è quasi calmo o poco mosso per la prossima settimana fino a metà della prossima settimana avremo comunque del tempo buono e stabile i giornali allora cominciamo dal resto del Carlino questa è la pagina di Pesaro una spiaggia per il maestro il maestro è Luciano Pavarotti Pesaro ha così deciso di intitolare un tratto del litorale di Baia Flaminia alla memoria di Luciano Pavarotti il 6 settembre prossimo infatti ricorrono 10 anni dalla morte poi sopra morti bianche il 2017 anno nero poca sicurezza multate 100 ditte le tragedie del lavoro i dati del servizio di prevenzione i tecnici dicono sono tante le aziende sottostimate dove le norme non sono a regola insomma non sono rispettate troppa fretta di produrre e poi c'è il racconto di un'operaia intervistata dal Carlino a cui sono rimaste solo due dita e lei dice che fatica ricominciare a vivere nelle pagine interne un altro caffè a Pesaro nel Mirino quello di Piazza del Popolo la piazza sotto attacco della soprintendenza nei guai anche il comune e poi a Urbino danni enormi dai diserbanti l'orto botanico lancia l'allarme e lo vedremo tra poco a Fano lo chalet riacquista la voce sono stati dissequestrati gli impianti audio il Corriere Adriatico la fotografia è per l'anniversario del terremoto non dobbiamo perdere la speranza cerimonie e polemiche a un anno dal sisma le anime di Erquata dolore rintocchi di campana e voglia di non arrendersi ma l'apertura è per la task force che c'è in questi giorni per mettersi in regola tra virgolette anche se parliamo di bambini che devono fare i vaccini per poter andare a scuola così dice la legge più di 3.000 però non sono vaccinati la legge Lorenzin screening dell'area vasta 1 in vista del nuovo anno scolastico un anno fa il terremoto che sconvolse il centro Italia le anime in pena di Erquata non perdiamo la speranza a Pescara del Tronto l'appello del Vescovo Giovanni D'Ercole non rassegniamoci a questa burocrazia spietata i comitati dei terremotati alla Boldrini presidente della Camera un tecnico per il dopo Errani e risorse adeguate per ripartire queste sono le richieste di queste anime in pena di Erquata sono le fotografie con Giovanni D'Ercole lo vedete qua che tanto si è speso per cercare di portare un po' di sollievo a tutte queste persone e nel silenzio ora parla il dolore con 51 rintocchi di campana ad Erquata del Tronto fiaccolata notturna e commemorazione alle 3.36 l'ora in cui appunto la terra ha tremato la pagina di Fano del resto del Carlino torna sull'argomento Pesaro-Fano succubi di Pesaro dice il sindaco di Fano Massimo Seri è il solito disco rotto mancano argomenti sulla ex ferrovia Seri ribatte anche al sindaco di Urbino Gambini sono state parole pesanti la verità è che nessuno che sono un sindaco concreto altri hanno dimostrato di non avere attributi una fondazione invece per la carnevalesca il carnevale è un po' in acqua agitata per una questione di soldi mancano un po' di soldi per chiudere i conti della scorsa edizione e c'è uno studio uno studio anche l'aumento delle tribune e parcheggio a pagamento qualcosa che insomma serva per far entrare più soldi anche perché quelli pubblici sono sempre di meno e questo è il progetto infatti al vaglio dell'ente carnevalesca per risolvere i nodi finanziari non è giusto che chi lavora gratuitamente dice la presidente Maria Flora Gianmarioli dell'ente carnevalesca chi lavora gratuitamente debba pure rimetterci personalmente e uno dei carristi dice in questo dibattito il contributo del comune di Fano non basta e parliamo di contributi che si aggirano intorno ai 120.000 euro andiamo sull'altra pagina del quotidiano Resto del Carlino lo vediamo subito eccola qua questo del Carlino anche le zanzare di casa nostra trasmettono la malaria se infettate siamo sulla pagina di Pesaro l'ipotesi al vaglio dell'area vasta dopo il caso segnalato anche banali zanzare di casa nostra possono trasmettere la malaria su queste ipotesi che si stanno indirizzando gli esperti dell'area vasta 1 al lavoro sul caso della donna di Pesaro colpita da malaria senza essere mai stata in Africa la segnalazione dell'ospedale Marche Nord che ha diagnosticato il protozoo malarico sulla paziente che nel frattempo è stata dimessa dopo una cura a base di antibiotici ha dato il via libera comunque ad una serie di analisi epidemiologiche nei luoghi frequentati dalla donna si tratta di un insetto proveniente dai paesi a rischio che ne contagia uno indigeno sulla questione Fano TV l'incendio Fano TV oggi torna il giornale di Pesaro nessun codice la cavalla c'è ed è zoppa davvero l'avvocato Defendini che tutela il presunto sicario fa alcune precisazioni che potrete leggere sul giornale di questa mattina andiamo adesso sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico invece perché si parla anche qui del carnevale del carnevale di Fano la regione non ha versato i fondi e ora rischiamo con i nostri beni il carnevale è in rosso ha i conti in rosso lo sfogo della presidente che dice valutiamo se conviene inserire il biglietto d'ingresso alla manifestazione con le chiusure per la sicurezza abbiamo avuto maggiori spese dice lei Gianmarioli approva la sperimentazione estiva ma puntando più sul mascheramento e poi c'è il palio delle contrade con Arciere e Cavalieri alle 19 a Ponte Metauro si aprono villaggio e taverne medievali poi ci saranno anche i balli popolari dunque da oggi si potrà assistere dopo l'apertura alle 19 del villaggio medievale delle taverne anche ad alcuni appuntamenti come la disfida degli arcieri del Liocorno poi c'è l'esibizione equestre e a conclusione della prima serata i balli popolari con i Trovadores di Romagna ok l'altra pagina è quella sempre di Fano che riguarda il sequestro non convalidato allo chalet del mare dunque si può tornare a ballare la musica è autorizzata da ieri sera anche ad Arzilla Beach Village non c'era l'urgenza dunque la musica è tornata a tutto volume ieri sera sulla spiaggia di Arzilla a Fano il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato questo sequestro preventivo urgente degli impianti audio dello chalet e del bar della concessione Beach Village e dunque collaboriamo invece con i comuni della provincia per lo sviluppo e l'altra pagina di Fano del Corriere Adriatico Bacchiocchi del Partito Democratico difende il patto con Pesaro nessuna sudditanza tengono a precisare nessuna sudditanza politica e grandi progetti le opposizioni temono i risultati dell'accordo e si battono per il tanto peggio tanto meglio e Fano è bistrattata ora si deve svegliare dicono Doglioni Mei e Paolini Mei infatti è il nuovo coordinatore è stato questo concetto è venuto fuori ieri nel corso di una conferenza stampa in cui la Lega Nord a Fano ha presentato il suo nuovo coordinatore che appunto è Massimo Mei conosciuto in città Fano come artigiano ristoratore proprietario del bar Arturo in via Fanella e da 4 anni simpatizzante appunto della Lega screening per i bimbi e studenti come dicevamo oltre 3.000 bambini non sono vaccinati la legge Lorenzina revasta al lavoro si invista del nuovo anno scolastico coinvolti anche pediatri medici di base e comuni nel giornale Corriere Adriatico di questa mattina ecco per un attimo ve lo facciamo vedere c'è anche questo riquadro con questo grafico con i nomi dei 10 vaccini obbligatori sono le 10 vaccinazioni obbligatorie e le 4 vaccinazioni raccomandate e ricordiamo che per l'iscrizione agli asili alle scuole tra 0 e 16 anni c'è l'obbligatorietà ok andiamo sulla pagina di Urbino invece adesso del resto del Carlino sulla pagina di Urbino smantelleremo le classi scolastiche ghetto gli alunni di prima e seconda elementare a Trasanni andranno in altre sedi dunque c'è un trasloco in vista per la scuola di Trasanni o meglio per le classi prime e seconde del distaccamento periferico della Pascoli che andranno nella sede principale in centro e a Pian Severo mamme ansiose e anonime siamo contrarie quando c'è la polemica spesso si tira il sasso e si nasconde la mano l'arrivo di cinque alunni in una sezione e quattro in un'altra ha riscaldato gli animi chiediamo al sindaco Gambini di convocare una riunione entro 48 ore e poi sempre sulla pagina di Urbino andiamo a vedere il Corriere Adriatico guardate qua c'è una caccia grossa da record con un cinghiale guardate che stazza un cinghiale enorme abbattuto da Giovanni Giuliani che posta e che si è messo in posa con l'animale ucciso un animale da 220 kg che è stato preso all'azienda Carpineto e lui dice lo seguivo da otto mesi Giuliani è protagonista durante una battuta di selezione sapevo che dove sarebbe passato dunque lo ha atteso ve lo faccio vedere a tutta pagina eccolo qua questo enorme cinghiale che appunto è stato abbattuto andiamo sull'altra pagina invece adesso case popolari a rischio ghetto prima le regole dopo il via Urbino fondi per 7 milioni ma i 5 stelle chiedono di definire i criteri di assegnazione dalla Valle del Cesano invece piazza o pizza in piazza per tutti i gusti tre giorni di festa e di sapori a San Lorenzo in campo torna la nazionale acrobati della pizza quella che si rimane affascinati soltanto nel guardare la manualità di questi pizzaioli come riescono davvero a destreggiare a manovrare la pasta atteso per domenica il vincitore di Amici 2017 abbiamo fatto passi da gigante al quarto anno vogliamo la consacrazione dice Marco Fontana che è il presidente della Proloco di San Lorenzo in campo poi sulla pagina di Senigallia invece c'è Mangialardi il sindaco che dice io sono indagato beh non lo sapevo l'ho letto sui giornali sono sereno ho fatto il mio dovere Mangialardi dopo la richiesta di proroga continuerò a lavorare con la consueta dedizione spero che questi sei mesi aggiuntivi servano ad accertare la verità stiamo parlando dell'alluvione che colpì Senigallia e fece anche dei morti sempre dalla pagina di Senigallia la polizia scova il deposito delle boutique del Tarocco sono stati sequestrati centinaia di capi contraffatti nascosti tra i cespugli e per questo sono stati denunciati tre clandestini l'ultima pagina la teniamo così per sorridere arriva da macerata il solito Sgarbi guardate bene la fotografia perché perché Sgarbi mentre era in viaggio in autostrada insulta un giovane in Lamborghini e lui lo denuncia per il video sui social il protagonista l'imprenditore William Balestrini sposato con la figlia del titolare di Lori Blue Sgarbi chi lo segue su Facebook sa che ogni giorno posta un video dove dice la sua spesso con i suoi model ha colto l'occasione di questa Lamborghini che gli è passata davanti si è fatto fare questo video e insomma chi vuol vedere e vuol sapere che cosa ha detto e che cosa ha scatenato questa denuncia che si è beccato così gratuitamente lo può fare guardandolo sulla pagina Facebook del noto critico d'arte ok noi ci fermiamo qui la segna stampa è finita Occhio Giornali torna domani mattina come sempre puntuale alle 7.30 stasera invece c'è il telegiornale alle 8.30 di sera alle 20.30 e questo è il numero che potete utilizzare per le vostre segnalazioni io mi fermo qui grazie per averci seguito buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.